Filippo Fossario, in questa trasmissione spesso abbiamo ricordato il grande ruolo che può avere lo sport come strumento di integrazione, come strumento anche per aiutare a superare momenti di difficoltà come sono quelli che magari vivono coloro che sono reclusi nelle carceri. Ieri oltre 200 tra detenuti e persone esterne hanno partecipato a questa iniziativa, è stata una grande giornata di sport e come abbiamo visto è stata molto molto coinvolgente. Beh, è una per noi, io dico ancora noi diciamo, ma anche in questa nuova funzione naturalmente è una bellezza la corsa a Rebibbia, tenga presente che a Rebibbia c'è un circolo della WISP, cioè c'è un circolo che organizza l'attività sportiva oltre l'attività culturale dei detenuti. E' bello perché si afferma un diritto e il diritto al movimento, alla corporeità delle persone che non può essere costretto neanche nei momenti di reclusione. Può essere anche uno strumento importante per migliorare la condizione delle nostre carceri che è un tema centrale che spesso ricorda il Presidente della Repubblica Napolitano, insomma come una delle emergenze di questo Paese. Naturalmente, ora pensiamo che c'è il problema del sovraffollamento, ci sono le celle piene ed è difficile pensare che si possa fare attività sportiva, ma noi dimostriamo che anche in spazi piccoli, anche dove c'è difficoltà a muoversi durante la giornata, si può trovare la possibilità di rompere questo assedio al corpo. In questo senso è aumentato notevolmente il numero degli iscritti interni quest'anno, a dimostrazione del lavoro che la WISP sta facendo e ha fatto nelle carceri. La cosa bella è quello che avviene dopo, perché chi comincia a fare sport dentro il carcere e poi nel territorio continua a farlo e spesso diventa un dirigente o un arbitro o un giudice nell'associazione sportiva del territorio e questo per l'integrazione poi dopo. Il reinserimento è comunque qualcosa di straordinariamente importante. No, ci piaceva piacere testimoniare questa iniziativa e lo abbiamo voluto fare in apertura di una pagina che però, come abbiamo visto anche nel nostro titolo, parla anche di Stati, perché insieme al Ministro Idem e ad altri parlamentari state provando a ripresentare la legge sugli Stati. A che punto siamo? Perché poi dobbiamo sentire anche la voce di Coni Servizi. Abbiamo costruito con dei colleghi parlamentari una prima bozza di testo. Stiamo definendo un po' gli ultimi dettagli per poter ripresentare e ricominciare, io spero, con esiti diversi. Perché la precedente legislatura la cosa si era un po' arenata, diciamo così, ripresentare il testo e avviare la discussione in Parlamento. Sapendo che quello che noi faremo sarà presentare le proposte di legge e chiedere al Ministero che sostenga questa iniziativa con i suoi strumenti, che sono strumenti del governo, quindi strumenti operativi, perché si riparta in questo Paese a tutti i livelli a investire sull'impiantistica sportiva. Noi interessano gli Stati e i grandi impianti per la Serie A di calcio e in generale per l'alto livello nelle discipline agonistiche, ma interessano contestualmente la manutenzione e l'allargamento dei piccoli impianti di strada di territorio. Michele Uva, il Presidente del CONI Malagò lo ha però ribadito, è chiaro che bisogna sviluppare tutta l'impiantistica e è altrettanto chiaro che il problema degli Stati resta però uno di quei vulnus del nostro calcio che effettivamente si spera si possono risolvere. Io fino a ovviamente dieci giorni fa potevo parlare di Stati a tutto tondo, adesso devo seguire l'indicazione dell'onorevole Fossati. Provenendo dal fucile studio della FIGC, lo ricordiamo per il nonno. Devo parlare di impiantistica sportiva anche perché la nuova bozza di legge che stanno preparando i nuovi parlamentari, quelli arrivati, anche quelli che avevano già iniziato prima ma soprattutto con la grande spinta anche dell'onorevole Nardella, oltre all'onorevole Fossati e di tanti altri, riguarda l'impiantistica in generale, anche perché da non dimenticare che c'è anche una proposta di legge sull'impiantistica scolastica. L'impiantistica scolastica che oggi soffre di 4 miliardi di euro di problemi per mettere a norma tutte le palestre scolastiche. L'impianto è la casa dello sport perché è bellissimo vedere lo sport all'aria aperta però sappiamo anche che ci sono buona parte degli sport che si fanno al chiuso, necessitano di stadi, necessitano di impianti. Chiaro, lo stadio è la punta dell'iceberg, il grande stadio, ma se andiamo a livello di numeri e di coinvolgimento popolare, è chiaro che per esempio la Lega di Lettanti nel calcio ha circa un milione e cento mila tesserati che utilizzano piccolissimi impianti, quindi bisogna occuparsi di tutto. Anche con progetti innovativi, noi ne abbiamo visto uno della Lega Nazionale di Lettanti proprio in una di queste nostre trasmissioni, uno stadio telematico che è peraltro un'arena telematica che consente anche notevoli risparmi sia nei costi energetici, quindi c'è la possibilità diciamo di intervenire in questo senso anche per i piccoli impianti. Io però vi devo riportare un attimo alla notizia, perché scusatemi, c'è stato appunto questo incontro, ricordava l'onorevole Dario Nardella che insieme a Filippo Fossati ha incontrato il Presidente Malagò, ci dite un po' in questi incontri, in quello che comunque si sta cominciando a ragionare, quali sono i punti di contatto e magari se c'è qualche punto di separatezza, di divisione ancora per quanto riguarda il progetto di legge? No, no, mi sembra che si sia fatto un buon lavoro intanto, perché il concetto principale è considerare il valore sociale dell'impianto sportivo e quindi se questa opera ha un valore sociale assoluto, preeminente, urgente come definiamo nel progetto di legge, questa opera avrà diritto a una procedura, a un percorso urbanistico di approvazione delle modalità che siano legate all'urgenza, cioè rapide, questo è il punto. Su questa chiave si sviluppa il progetto di legge, dare la possibilità ad un imprenditore che sia la società sportiva o che sia un imprenditore che con la società sportiva abbia un rapporto stretto, di poter avere in tempi certi la possibilità di realizzare un complesso sportivo, in tempi certi, con tutte le autorizzazioni che servono, un progetto è un impianto multifunzionale, multifunzionale significa che c'è qualcosa che deve servire allo spettacolo sportivo e dalla gestione si possono ricavare i fondi per poter portare per investire. In questo senso volevo chiedere a Michele Uva, però rispetto alla legge sugli stadi, perché per esempio abbiamo visto le immagini che passavano, la Juventus lo stadio l'ha realizzato, l'Udinese lo realizzerà, abbiamo avuto ospite nella nostra trasmissione il patron Pozzo e rispetto a quanto diceva l'Onorevole, l'autofinanziamento degli stadi, per esempio se concepiti all'inglese o secondo il modello tedesco, magari poi possono garantire l'utilizzo di soldi per altre federazioni, perché se c'è un autofinanziamento qualcosa si risparmia. No, ma si recuperano risorse, certo. Sì, beh, è indubbio il caso della Juventus e dell'Udinese, sono dei casi importanti, come il nuovo palazzetto dello sport sta per sorgere a Cantù, che comunque è intorno a tutta una serie di servizi che sono un modello, però la Juve ha impiegato sette anni, l'Udinese ha impiegato otto anni di burocrazia per arrivare ad avere le autorizzazioni e questo penso sia lo spirito di cui parlava l'Onorevole Fossati, su cui si sta lavorando, quello di dare certezza dei tempi burocratici perché un investitore privato, un rapporto pubblico privato, anche perché la legge secondo me deve andare anche oltre, sperare anche che le amministrazioni comunali, guardando avanti dieci anni, fra dieci anni magari col project finance o fra cinque anni le amministrazioni comunali potrebbero essere anche in grado loro di fare degli impianti. Juventus e Udinese sono dei grandissimi esempi, ma esistono anche tante altre piccole realtà che ci dimostrano che non funziona solo il grande impianto, funziona il piccolo impianto. Quello che è importante è la sostenibilità, la sostenibilità non nella costruzione, ma la sostenibilità successiva, altrimenti ricadiamo nell'errore d'Italia 90. Ecco, proprio da questo punto di vista, siccome poi l'errore d'Italia 90 è a monte, ma poi ci sono stati anche un po' di ritardi in quello che è stata la presentazione del progetto di legge nella precedente legislatura, lo sport potrebbe unire anche dal punto di vista politico. A che punto è il progetto di creare un intergruppo parlamentare che abbia in qualche modo a cuore i problemi dello sport e anche questi degli stati, onorevole Fossero? Beh partiamo, partiamo con la prima richiesta di adesioni, ci siamo un po' coordinati, diciamo intanto quelli che direttamente vengono in Parlamento magari per la prima volta arrivando da un impegno sportivo a tempo pieno, il presidente dell'ICS Molè che è un deputato di scelta civica, la Vezzali che tutti conosciamo, una grande campionessa, Laura Coccia, tra l'altro insieme a lei abbiamo fatto la legge sulle carceri e sullo sport nelle carceri, che anche lei è una campionessa paralimpica, ecco da questo nucleo di parlamentari che nascerà un coordinamento, sta nascendo il coordinamento intervistico. Speriamo soprattutto, perché siamo in chiusura, che si possa trovare anche un progetto comune in cui si possano mettere insieme le esigenze di favorire la costruzione in tempi certi degli stati, si possano evitare magari rischi che vengono anche qualche volta denunciati di speculazioni di tipo edilizio e si possa soprattutto dare una risposta concreta sia all'impiantistica per lo sport di vertice che all'impiantistica per lo sport di base. No, Michele Uva, l'ultima parola, tema di chiudere. Per me il titolo è perfetto, forse togliendo stadi, lo sport per tutti, che poi è il claim della WISP, l'impiantistica per tutti, l'impiantistica, il poter fare sport è un diritto della cittadinanza. Ed è assolutamente giusto ribadirlo. Grazie, grazie a Michele Uva, grazie all'onorevole Filippo Possati.